è il teatro e quindi tutto diventa più bello. C'è solo una piccola sorpresa prima di iniziare il vero e proprio saggio e vuol celebrare questa sorpresa 20 anni di danza di scuola di ballo, quindi esiste da 20 anni la scuola Alen e Cinzia Dance ed è 30 anni che Alen e Cinzia ballano insieme, quindi i tecnici e tutto lo staff hanno preparato qualcosa per celebrare queste date. Io da che mi ricordo, mi ricordo un Alen di 13-14 anni e più o meno anche Cinzia di quell'età, li ho sempre visti insieme, sono un binomio che è sempre stato unito, Alen e Cinzia. Ed ora vogliamo celebrare 20 anni di scuola di Alen e Cinzia Dance e 30 anni di danza Alen e Cinzia Dance. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Sì 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti